Pimpi chiede e gioca, non può stare senza te. Sono annoiata. Non ho sete, io sono annoiata. È divertente. Pimpi sa cosa vuole e ti lo chiede. Portami dal dottore. Quando sta male, fai la puntura. Ora sta bene, grazie mamma. Pimpi ha bisogno di una vera mamma, come te. Ho tanto sonno. Non voglio andare a passeggio, ho tanto sonno. Pimpi chiede e gioca, giochi preziosi. Action Man, il più grande del nero. Dottor Riggs sta facendo esplodere una mega petroliera. Inquinerà l'oceano, ma col suo sottomarino super equipaggiato, Action Man blocca la nave e con un missile subacqueo mette fuori gioco Dottor Riggs. Action Man Ocean Mission, da Hasbro. Micro Machines, i carabinieri. Il blindato è grande, si apre e diventa base strategica. Senti, in caserma suona l'allarme. Ok, pronti per giocare. Il grande blindato base strategica dei carabinieri Micromachine. Gli originali. Avro. Sbrodolina è la casa dei mille giochi. Quattro giochi in uno. È Jing. La fabbrica dei mostri. La fabbrica dei mostri. È piena attività. Il liquido speciale dei mostri prende vita. Infila la piastra. Sfila il tuo mostro. Con la vera fabbrica dei mostri. La fabbrica dei mostri. Da Jing. Ralf. Il cucciolo radiocomandato che va dove vuoi tu. Cucciolo amico di uno spasso con me. Ralf mangia e beve dalla ciotola. Muove la testa, porta rosso, scodinzola e fa la guardia. Giochi preziosi. Chiricù e la strega Carabà. A Natale, nei cinema. Attenzione, cantiere. Stiamo dando la caccia a una vettura sospetta. Il sospettato va in direzione del parcheggio. Alzate la sbarra, presto. L'uscita è di qua. Salvo. Maxi Trappic da Smoby. Smoby. Cerco la cucina componibile. Ma è la cucina della mamma Smoby. Per pulire i piatti, per stare freschi, per cucinare, per lavare e per stirare. E c'è spazio anche per le amiche. La voglio. Smoby. Yo-yo Skipper Samstar. Una campionessa con lo yo-yo. Ehi Skipper, qual è il segreto? Della tua moda. Lo yo-yo è un grande look. Ecco la mia moda. Yo-yo Skipper. E le sue amiche con le mascotte sono ancora più belle. Cambia vestito per la sera. Wow, che look. Sei perfetta sempre. Yo-yo Skipper, sei ok. Anche quando balli non smetti mai. Yo-yo Skipper. Tanta moda e uno yo-yo tutto per te. Per scegliere i tuoi regali di Natale, richiedi Videogiocando. Il primo videocatalogo di giochi preziosi e gig in omaggio nei migliori negozi. Tania Babysitter porta a spasso il bebè. Cammina, fa un giretto e lo fa insieme a te. Solo Tania cammina così. Tania Babysitter, cammina come te. Piega anche le girocchia. Tania Babysitter porta a spasso il bebè. Come il tenero, piccolo e dolce il bebè di Tania. Muove di gambine e ride di felicità. Tania Babysitter è... Giochi preziosi.